Intanto vedo che entrano follower, iscritti, visualizzazioni. Io sono Marco da Bologna. Marco da Bologna ha più di 50.000 views in una sola telefonata. Allora, questi dicono che io sono hater, sono un troll, devo lavare il pavimento. Adesso arrivano, ma io lo faccio apposta così la gente ti... arrivano gli hater. Non pulisci la casa, non avvi il pavimento, non hanno ancora capito. Allora, guarda dove è il materasso, è lì. Il cane dove è? Mi sape di là. Quindi niente, io me ne sbatto le balle dei vostri giudizi. Adesso ti faccio vedere qua, guarda. Ti faccio vedere qui. Ti faccio vedere qui, qui è da pulire, sapito? Ma me ne sbatto dei vostri giudizi, dei vostri pareri. Me ne frego, vado avanti. Tio dritto, capito? Poi le amanti, le corute, i mariti gelosi, me ne sbatto le balle. Se tu sei su TikTok, io posso esprimere dei pareri, dei giudizi, delle opinioni. Mi banni, mi banni. Denuncio, vai dalla polizia postale, vai, vai. Ma io legamo l'ipi, ipi, ipi.